Il primo che lasci è il 9 che è l'unico Dio sa dove abita Appio, per lì Appio è una persona che si è Ci fermeremo come al solito qui dalla costura un po' più avanti Ci fermiamo per dare modo alle motore, alle macchine di chiudere la strada contrariamente agli altri anni non sarà dato il via dalla farmacia ma sarà dato il via 700-500 metri più avanti più in alto sul rettilineo che porta di salita a Cataldi, eh? Roberto, c'è tutto un rettilineo lungo, in cima nel tornante ci va Marcello, qui vai da Ceri, poi fatto il tornante qui molli lui, 9, poi prosegui, qui c'è la cappella di Sciucca Rega, al 10 lasci Osvaldo, Salvatore, no, qui c'è Gava, Salvatore l'abbiamo messo nel tornante dove c'è quel palazzo rosso, palazzone rosso, comunque adesso te lo do. Sì, ragazzi. Per tutto il motore, un po' di ragazza, fermare quello che c'è da fermare, ragazzi. Sì, è alto livello oggi. Servizio moto, vado avanti a fermare quello che c'è.